www.kid4kids.it Kit4Kids nasce per rispondere alle esigenze del mondo scolastico, facilitando il processo d'apprendimento degli studenti nell'uso del PC e delle applicazioni di Office, e agevolando al tempo stesso il compito degli insegnanti. Ma tutte le funzionalità rimangono accessibili attraverso le scelte rapide di tastiera. L'interfaccia grafica con dei bottoni permette di attivare scelte immediate o di essere guidati nella realizzazione di operazioni più complesse. Mi chiamo Maria Cristina Scioni, sono un'insegnante della scuola primaria dell'Istituto Baccio da Montelupo, di Montelupo Fiorentino. Nel nostro istituto già da vari anni sono in atto sperimentazioni tecnologiche che vedono l'utilizzo di vari strumenti. Questo prodotto Kit4Kids è stato fatto usare a delle classi che non avevano molta familiarità con il computer. Ma sinceramente questi bambini si sono trovati a loro agio, grazie forse a questi bottoni realizzati in una grafica accattivante, grazie anche alla loro struttura mentale di bambini cosiddetti nativi digitali, che ha fatto sì che loro lavorassero in piccoli gruppi aiutandosi, collaborando, per poter realizzare un piccolo prodotto divertente e con una semplicità, con una facilità non indifferente. E' ovvio che noi continueremo a lavorare con questo software per creare poi a fine anno dei piccoli prodotti, delle piccole ricerche create, realizzate dai bambini. Grazie a Kit4Kids, studenti e insegnanti possono scoprire un nuovo modo di utilizzare il prodotto Microsoft Office. Grazie a Kit4Kids, studenti e insegnanti possono scoprire un nuovo modo di utilizzare il prodotto e utilizzare il prodotto.